Si intitola Se son rose, l'ultimo film del regista fiorentino Leonardo Pieraccioni che lunedì sera è arrivato al cinema Goldone di Viareggio, nella sala strapiena, per presentare la sua ultima fatica cinematografica. La pellicola, della quale il comico regista fiorentino è anche il protagonista, narra di un uomo che rincontra le sue ex, con le quali tenta un riavvicinamento. Ma, dice lo stesso Pieraccioni, le minestre riscaldate non vanno bene, in quanto i motivi che vi avevano fatto allontanare rimergeranno in breve tempo. Pieraccioni è stato disponibilissimo con il pubblico del Goldoni e con le nostre telecamere. Ha parlato della sua esperienza con il Carnevale di Viareggio e ha consigliato di venire a vederlo. Perché devi venire al Carnevale? Perché si ritorna bambini, perché ci sa bisogno di tornare bambini e tornando al Carnevale c'è questa sensazione. Io, almeno tutte le volte che ci sono venuto, ritorno a quando mi portava la minonna e il mio babbo, e ci avevo 6-7 anni, con dei vestiti improbabili. Ero sempre vestito da Peter Pan. Cascavo in terra, tra l'altro, così che non solo non volavo, ma cascavo spesso e volentieri, inciampavo, perché c'avevo i pantaloni che mi entravano sotto alle scarpe. Però bisogna venire per ritrovare quell'area veramente di quando si era bebè. Poi, il comico ha parlato della polizia municipale, molto solerte nel fare contravvenzioni per lo spazzamento automatico nell'area del cinema Goldoni. E si è rivolto, scherzando, al primo cittadino di Viareggio. Voglio fare un appello al vostro sindaco. Come si chiama il sindaco? Del Ghingaro. È un soprannome? No, no. Ah, si chiama proprio Del Ghingaro. Allora, Del Ghingaro, tu hai dei poliziotti, no, dei poliziotti, dei vigili urbani veramente tremendi.